buona sera buona sera ragazzi dal bosto gatto al boss e questa nostra inter che non si ferma più non si ferma più come le mie profezie ragazzi le mie profezie si avverano ancora una volta inter batte genova 5 a 0 ma ragazzi notizia bomba allora ragazzi io vi chiedo scusa perché la partita purtroppo non l'ho potuta vedere come ben vedrete sono in tenuta diciamo di allenatore perché sono stato in panchina con i miei ragazzi che hanno perso purtroppo 2 a 1 ma in compenso la mia inter cosa mi combina cosa mi combina la mia grande inter che ancora una volta batte 5 a 0 il genova appunto con doppietta di gagliardini un gol matteo politano e chi va a segnare oltre a gagliardini che è veramente notizia bomba gioao mario gioao mario ragazzi non ci credo e l'ultimo il ninja naim golan ragazzi io non ci credo gioao mario gioao mario che fa gol non ce n'è per nessuno non ce n'è per nessuno grande pazza intra ancora una volta ancora una volta 5 a 0 ma chi ci ferma più a noi chi ci ferma più a noi a nessuno nessuno può fermarci siamo i numeri uno quindi ragazzi una giornata straordinaria purtroppo non ho visto né a lights e né nulla so solamente purtroppo e dico purtroppo il risultato finale ma sono stracontento quando ragazzi poi stasera andrò a vedere un pochettino l'analisi della partita ma che cosa abbiamo combinato che weekend da sogno che weekend da sogno 5 a 0 5 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 6 sempre più forti sempre più su e non ci ferma più nessuno ragazzi non ci ferma più nessuno siamo dei fenomeni come godo gagliardini doppietta ragazzi mamma mia mamma mia tanta roba tanta roba io ragazzi veramente non posso che non essere stra felice veramente ragazzi non mi rendo conto nemmeno io di quanta questa felicità può dentro di me ancora esporsi ragazzi io sono no felice di più gagliardini giovao mario na ingolano e politano mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia da questo bel scenario del borgo del mio posto dove stanno adesso il borgo 5 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 0 genova bye bye e ora ragazzi mi raccomando concentrati per barcellona io ho detto la sconfitta ma se mi regalate un paregino ma se mi regalate un pareccio mamma mia quello che non può succedere sto godendo ragazzi sto godendo e adesso cominciate a tremare tutti juventus milan vabbè mila macco ormai c'è la nebbia a milano dall'altra parte logicamente roma napoli e tutti quanti lazio cominciate a tremare cominciate a tremare perché sta arrivando l'internazionale finalmente dopo tanti anni di tanta sofferenza noi ci siamo sempre continuate così amala sempre ragazzi condivisione del video mi raccomando chi vuole maglietta dell'inter calcio a basso costo mi raccomando codici sconto cartel condivisione del video un bel like e vi saluto e sempre forza inter